Nella cornice del Chiostro di San Nicolò di Spoleto sono stati assegnati i premi letteratura Menotti Art Festival 2022. L'evento ha coinvolto le ambasciate a Roma di Sudafrica, Cuba e Bulgaria, quest'ultima con la partecipazione della poetessa, attrice e giornalista Anna Maria Petrova. Presenti numerosi editori, letterati e associazioni culturali. La Kermeschi ha portato all'allestimento di interessanti mostre d'arte in tutto il centro storico di Spoleto, presenta oggi il gran finale del Menotti Art Festival 2022, in programma alle ore 16 al Piano Nobile del Chiostro di San Nicolò, con la cerimonia per l'assegnazione del premio Thomas Schippers, il direttore d'orchestra che ha legato il suo nome a Giancarlo Menotti e al Festival dei Due Mondi, e le cui ceneri sono tumulate in Piazza Duomo, la sua piazza dove diresse numerosi indimenticabili concerti di chiusura della manifestazione.